Oggi vi propongo un salvacena davvero delizioso, le frittelle di carote, facilissime da realizzare, belle e croccanti, dal sapore dolciastro, sono un ottimo salvacena perché si preparano in pochissimo tempo e poi considerate che tutti quanti in frigo abbiamo carote o uova, quindi preparare queste frittelle di carote è davvero semplicissimo. Se provate la mia ricetta lasciatemi un commento. Utilizzo 400 g di carote, lavate benissimo le vostre carote sotto l'acqua corrente, le pelate e poi le grattugiate con una grattugia con le maglie larghe. Una volta che avete grattugiato tutte le carote, versate il tutto in una ciotola con due uova, utilizzo le uova L, sono quelle grandi, pepe nero macinato, un cucchiaino di sale e curry che renderà le vostre frittelle di carote super super buone. Padella antiaderente, olio extravergine di oliva oppure olio di semi di girasole. Quando l'olio è ben caldo possiamo friggere le nostre frittelle di carote. Ragazzi la ricetta è davvero semplicissima, a volte le ricette più semplici e più scontate sono quelle più utili. Quindi spero che questa ricetta vi piace, fatemi sapere se provate le mie frittelle di carote super saporite e lasciatemi un commento. Vi aspetto sul mio canale YouTube Cartesia, attivate la campanella e iscrivetevi. Vi aspettano tantissime videoricette super golose. Come vedete ho utilizzato un mestolo grande oppure un cucchiaio quindi potete fare delle frittelle più grandi o più piccoli. Quindi ragazzi non vi resta che provare le mie frittelle di carote. Ciao e alla prossima!